Dunque, benvenuti. In questo video proseguiremo la nostra, anzi la mia, analisi storica dell'anime Omnioggi, uscito sulla piattaforma Netflix in Italia il 28 novembre 2023. Tecnicamente all'inizio questo era un video unito al primo, però poi mi sono semplicemente accorto che stava diventando troppo lungo, superando i 40 minuti, perciò ho deciso di vederlo in due, sperando che fosse più facilmente fruibile. In questo video andremo a esaminare, dopo aver esaminato i protagonisti principali, ovvero Abino Seimei e Minamoto Hiromasa, andremo a parlare dei personaggi complementari che però si vedono spesso nell'opera. E partiremo proprio da quello che è un po' l'antagonista e nemico per eccellenza di Abino Seimei, ovvero Ashia Doma, con cui però in questo anime ha un rapporto sì conflittuale, ma anche di stima e di collaborazione reciproca. Parliamo adesso di Ashia Doma, di cui non ci sono note né la data di nascita né la data di morte, e che viene anche chiamato Doma Oshi. Egli era un omnioji che si ritiene operasse durante il regno dell'imperatore Ichijo. Eppure non viene mai nominato nei testi dell'epoca, e c'è anche chi pensa che Ashia e Doma Oshi siano due persone completamente diverse. Ma sembra che si è stato anche assunto da Takashina Nomitsuku, sorella di Takashina no Takako, morta nel 996, e zia di Fujiwara Korechika. Stando a quanto c'è scritto nello Arima Kagami, egli era originario del villaggio di Kishi, nella zona dell'odierna città Kagogawa, prefettura di Yogo. Se vi state chiedendo chi è Takashina no Takako, detta Kononaishi, beh, era una notte poetessa, e aveva sposato Fujiwara Michitaka, generando con lui Fujiwara Takeye, la futura impiettrice Teishi e anche Fujiwara Korechika. Sembra che per tutta la sua vita Ashia abbia cercato costantemente di screditare Seimei, ma in un duello a colpi di Shikigami viene sconfitto e poi esiliato ad Arima. Mentre Seimei, infatti, è l'omni oggi di fiducia di Fujiwara Michinaga, Ashia viene dipinto come quello impiegato da Fujiwara Akimitsu, che nutre il risentimento verso Michinaga perché il futuro imperatore, il principe Atsuokira, ha abbandonato sua figlia Enshi per sposare la figlia di Michinaga, portando Enshi ad ammalarsi e morire. Akimitsu, quindi, chiede ad Ashia di lanciare una maledizione che porta tutte le figlie di Michinaga a morire una dopo l'altra, con il risultato che ormai la gente teme Akimitsu e lo chiama il demoniaco ministro della sinistra. E la stessa Takashina Nomizuku, sua cognata, cerca di uccidere Michinaga, ma viene arrestata. Nell'opera Kabuki Kuzonoa si dice anche che la morte improvvisa di Kamu Iosunori, il maestro del padre di Seimei, scatenò una lotta tra lui e Ashia Doman per ottenere il posto di astrologo di corte. Sembra che in seguito abbia anche copiato di nascosto il libro con i segreti esoterici di Abe Seimei, chiamato Kino Gyokuto Shu, che come detto gli viene attribuito, ma viene messo in dubbio dagli storici. Tranne la mente invece l'opera Kabuki che racconta le origini di Abe Seimei, Ashia Doman Ochi Kagami, cioè lo specchio di corte di Ashia Doman, è intitolata proprio al suo rivale, che in realtà vi compare per poche scene. Il dipinto strappato che si vede alle spalle di Ashia Doman nella sua dimora diroccata nell'anime rappresenta Fudomiyu, uno dei protettori del buddismo. Sempre nell'anime, Ashia Doman porta un tipo di calzature definite Tengu Geta, ovvero Geta dei Tengu, un tipo di sandoro in legno con un solo dente, il cui nome rivela l'associazione popolare con quel tipo di yokai. Sebbene non sembrino affatto comedi per camminare, nel 2023 un maratoneta giapponese, Minoshima Takanobu, li ha indossati per correre la maratona di Osaka, concludendola in 3 ore e 28 minuti. Accidenti! La parte superiore dei vestiti di Sainte Doman, invece, ricorda nella forma la veste indossata dalle danzatrici Shirabiyoshi, anche se di colore rosso invece che nel tradizionale bianco, e con le due coccarde crisantemo bianche sul petto, mentre le Shirabiyoshi di solito ne hanno una bianca e una nera. A questo punto io ho trovato interessante andare un po' a investigare sulla madre di Abeno Seimei, Kuzunoa. Kuzunoa è il nome di una volpe leggendaria, chiamata per esteso Kuzunoa Kizune, cioè la volpe di Kuzunoa, oppure Shinoda Zuma, ovvero la moglie che viene da Shinoda. Vediamo un diverso racconto che la riguarda, più esperato alla tradizione che è Kabuki. Ebbene, durante il regno dell'imperatore Murakami, Ishikawa a Kuemon, seguendo l'istruzione del fratello Omiyoji a Shia Doman, si reca nella foresta di Shinoda, nella contea di Izumi, l'attuale zona della città di Izumi, prefettura di Osaka, con l'intenzione di procurarsi il fegato fresco di una volpe da usare per curare la moglie malata. Nella stessa foresta, il caso vuole che Abeno Yasuna si imbatta nella volpe presa nella trappola di Akwemo e per liberare l'animale resta ferito. Ma in altra versione si dice proprio che fa botte coi cacciatori per liberare l'animale. Comunque, poco dopo, una donna, che dice di chiamarsi Kuzunoa, si presenta a Yasuna e si offre a dimenticarlo. Poi, visto che c'è, diceva, ti accompagno a casa, e i due, come è naturale, finiscono per sposarsi ed avere un figlio, che chiamano Doji. Nel frattempo, Akwemo viene ucciso da Yasuna per vendetta, dato che Akwemo aveva ucciso il padre di Yasuna. Beh, insomma, questa gente non riesce a stare senza uccidere qualcuno. Quando Doji raggiunge i cinque anni, si scopre che la moglie di Yasuna e la madre del bambino è in realtà una volpe. Da lui, la stessa volpe da lui salvata nella foresta di Shinoda. E lei, una volta scoperta, come vuole la logica di tutti i racconti popolari, deve andarsene. Ma disse al marito che, se egli vuole rivederla, può recarsi nella foresta di Shinoda. Yasuna, dunque, che cosa può fare? Si reca con il figlio Doji nella foresta di Shinoda? E la madre dona al bimbo il potere di capire il linguaggio degli animali, e gli regala anche una sfera di cristallo e una scatola d'oro, che Seimei userà anni dopo per curare la malattia dell'imperatore, ottenendo un grande prestigio. In tutto questo, Ashia Dohan, che nel frattempo ha ucciso il padre di Seimei, ci mancherebbe altro, mette in giro delle false voci per screditare Abeno Seimei, e alla fine i due si sfidano in un duello di magia, che viene vinto da Seimei, che tra l'altro, per non farsi mancare niente, ha anche riportato in vita il padre, che ora non ha nessun problema ad accusare Ashia del crimine di omicidio, per il quale il malvagio Ashia viene decapitato. Si dice anche che Abeno Yasuna si fosse recato al santuario Shinoda Mioji per pregare, dato che al padre erano state sottratte le sue terre con l'inganno. Sul posto, detto anche santuario Kuzunua Inari, si trovano un antico albero di canfora, all'interno del quale, si dice, sia sparita la volpe, una pietra bianca incantata da lei, e un pozzo nel quale si rifletteva la sua vera immagine. Il folclore ha poi dato origine alla credenza che i soldati che riescono a vedere la loro immagine nel pozzo ritornino sani e salvi dalle spedizioni militari. Il santuario venne fondato in effetti nel 708 e viene detto Kuzunua, ovvero foglia di kuzu, perché qui vi cresceva una variante insolita di tale pianta, detta Urami, che presentava la foglia rovesciata e che ancora oggi è rappresentata come simbolo del santuario. Il kuzu è un veticcio dal quale si ricavano delle stoffe, ma viene anche usato per fare corde, un po' come la paglia, e attraverso un particolare trattamento se ne ricava anche un medicinale utile per abbassare la febbre. Il nome della pianta kuzu è Pueraria montana, una pianta arrampicante selvatica dell'Asia orientale, in grado di vivere fino a ben 100 anni, le cui radici possono raggiungere i 100 metri di lunghezza. E sono radici molto salde e note per contrastare l'erosione del suolo. Può anche essere usata come digestivo. Inoltre, la polvere delle radici è un amido privo di zuccheri e viene usato come addensante per gelificare zuppe, creme e dolci. Ok, adesso entriamo in una parte un pochino più legata allo spoiler, ma spero che voi abbiate già visto l'anime. Ma comunque, nel caso vi ho avvisato. Ebbene, ora parliamo di Taizanfuku. Beh, è una divinità del monte sacro Taishan, che si trova in Cina, nella provincia dello Shandong, dove si gradeva che le anime dei morti si recassero al suo cospetto per essere giudicate. In pratica, un po' la versione cinese del re Emma, che deriva dalla stessa divinità di origine indiana. Ma con il tempo si iniziò a credere che non vi fossero solo i giudici, bensì dieci giudici dei morti, detti i dieci sovrani. E quindi Emma e Taizanfuku erano visti come divinità distinte, ma dei colleghi in pratica, che giudicavano le anime sette giorni, settantasette giorni, cento giorni, un anno e tre anni dopo la morte. Insomma, c'era un sacco da giudicare. E ne decidessero poi la condanna o la rincarnazione. Il rituale, che prende il nome da questa divinità, è una tecnica di origine taoista cinese, e implica invocare i giudici dei morti offrendo loro oro, argento, seta, cavalli sellati o esseri umani. Questi ultimi, di solito sostituiti da simulacri di carta, detti katashiro, in cambio della vita di una persona. Sembra non siano richieste formule specifiche, né mandala, ma viene presentata e letta una lettera che precisa la richiesta e cosa si dona in cambio. Sembra proprio che la paragonanza di tale rituale abbia garantito alla famiglia Abe di mantenere il suo ruolo come capo del dipartimento dell'OnmyoDo fino all'era Meiji. Su Wikipedia si legge che Taizanfuku corrisponde alla voce di Seikizanmio Moji, ovvero lo spirito del monte Sekizan, ovvero il monte Chishan, che non è il Taizan, la cui introduzione in Cina viene attribuita dalla tradizione della setta Tendai al monaco Ennin. Sekizan, nel ruolo di divinità del destino, è associato poi a una stella dell'orso maggiore, Alcor, in giapponese Hosei. Chi è il monaco Ennin? Come si fa a non saperlo? Il monaco Ennin, 1793-864, meglio noto come Jikako Daishi, ma adesso l'avete riconosciuto, era nato a Mibu, l'attuale prefettura di Tojiki, e a 14 anni divenne un monaco del monte Iei e nell'838 accompagnò Fujiwara no Tsunetsugu nella banscheria alla corte Tang e rimase in Cina per diversi anni studiando sia sul monte Wutai, nello Shaanxi, che poi nella capitale Chang'an, ovvero l'odierna Pechino. Quando poi salì al trono l'imperatore Wuzong, che ebbe la simpatica idea di perseguitare il buddismo dall'842 all'846, il nostro caro Ennin venne costretto a tornare in Giappone nell'847 e nell'854 divenne l'abate della sette Tendai dello Enryakuji sul monte Iei. In effetti non vi è nessuna connessione tra Ennin e Sikizan Mioji. Questa fu solo un'invenzione dei suoi discepoli, però tale diventata divenne un protettore del monte Iei. Per quanto riguarda i dieci re dell'inferno, questi non giudicavano come abbiamo detto in assemblea, bensì l'anima passava da una corte all'altra. Il termine cinese per l'inferno, tanto per informarvi, è Dayu e viene visto come una specie di lamberinto sonterraneo, un dungeon nella quale le anime dei difunti subiscono diversi castighi. Pensate che inizialmente gli inferni erano ben 134, ma poi per semplicità furono ridotti a solo 18. Mi sembra giusto poi parlare di un altro personaggio che è principale nella storia, ovvero il principe Azumi. Il principe Azumi, nato nell'893 e morto nel 967, chiamante anche Rokujo no Miya, era l'ottavo principe dell'imperatore Uda ed era figlio di Fujiwara no Inshi, o Taneco, figlia di Fujiwara Takafuji. Si sposò con la figlia di Fujiwara Tokiira, quindi Minamoto Hiromasa era sua nipote, dato che era il figlio di un'altra figlia di Fujiwara Tokiira e del principe Yoshi Akira, figlio a sua volta di Daigo. Bene, e i suoi figli Masanobu, Shigenobu, Hironobu diedero inizio alla casata degli Uda Genji, ovvero un ramo di Minamoto. Tra i figli di Azumi vi era anche il monaco Kacio, del tempio Ninnaji, 906-998, nipote dell'imperatura Uda ed esperto di canti magico-religiosi, proprio l'uomo di cui abbiamo parlato prima, che davanti al quale Abeno Seimei con la sua magia schiacciò una rana senza toccarla. Ma torniamo ad Azumi, egli venne nominato governatore di Kozuke a 15 anni e dopo ricoprì anche il ruolo di ministro degli affari centrali ed il ministro delle cerimonie. Nel 1950 si fece monaco a Ninnaji, dove vi erano anche i suoi figli Kacio e forse anche l'altro figlio monaco, Gakei, prendendo il nome religioso di Kakushi. Fu lui a coreografare le danze per le musiche Koço e Enkiraku, che fanno parte delle danze tradizionali della corte imperiale e vennero composte tra il 901 e il 922. Come già detto, sembra che egli abbia insegnato a Minamoto Iromasa la tecnica vocale e non a suonare il flauto, un'arte in cui invece Iromasa venne istruito da Oishi Minekichi. Nell'anime, Azumi brandisce una spada a lama diritta a doppio taglio, definita Tsurugi, derivazione del modello di spada Chinese Jian, i cui primi modelli ritrovati in Giappone, costruiti in bronzo, risalgono all'800 a.C. A partire dal 500 d.C. fino al 900 le Tsurugi vennero forgiate però in ferro, quando vennero via via sostituite dalla spada di tipo Tachi, l'antenata della katana finendo per sparire completamente nel giro di un secolo, tranne che come doni votivi a monasteri o a santuari. Adesso mi sembra interessante ricapitolare l'età dei vari personaggi, o almeno di quelli ricorrenti, prendendo come riferimento quella dei Sei Mei, che si crede sia nato nel 921. Minamoto Iromasa è nato nel 1918, quindi ha tre anni più di Sei Mei, e perciò si può dire che effettivamente i due sono equitani. Il principe Yatsumi, nato nell'893 invece, ha ben 28 anni più di Sei Mei e 18 più di Iromasa. Kamu Yasutori, il maestro di Sei Mei, ha quattro anni più di Sei Mei e ha praticamente la stessa età di Iromasa. Fujiwara Kaneie, nato nel 929 e morto nel 990, che è rappresentato come un personaggio molto più vecchio di Sei Mei e degli altri, nella realtà era addirittura sette anni più giovane di lui, e raggiungerà i vertici del potere negli anni compresi tra il 977 e il 980, quando Sei Mei aveva già 54 anni. Fujiwara Michinaga, 966-1028, il figlio di Kaneie, che nell'anime sembra coetaneo o poco più giovane dei due protagonisti, appartiene addirittura alla generazione successiva, essendo ben 25 anni più giovane di Sei Mei, anche se è vero che Sei Mei sarà il suo omioji di fiducia. L'imperatore Murakami, 926-967, regno dal 946 al 967, anche in questo caso nella realtà era più giovane di Sei Mei, circa 5 anni, e nella realtà chiederà l'intervento di Sei Mei solo nel 960, a 39 anni, e il nostro diventerà apprezzato a corte solo nel 969, a circa 58 anni, sotto l'imperatore Kazan e i suoi successori. Possiamo più o meno assumere che le vicende dell'anime si svolgano attorno in un periodo compreso tra il 940 e il 965. Quindi l'imperatore in carica è molto probabilmente Murakami, 926-967, regno dal 946 al 967, che perciò fu imperatore dai 20 ai 41 anni. Sembra strano che possa essere Suzaku, il suo predecessore, nato nel 923 e morto nel 952, regno dal 930 al 946, quindi imperatore dai 7 ai 23 anni. Ipotizzare che possa trattarsi di Reizei, 950-1011, regno dal 967 al 969, o di Enju, 959-991, regno dal 969 al 934, mi sembra azzardato. Inoltre, come detto, sebbene ci sia di mezzo, Fujiwara Kaniye viene rappresentato molto più vecchio della sua vera età, perciò non credo possa trattarsi né dell'imperatore Kazan, o di Ichijo, e tanto meno di Enju. Ok, direi di concludere qui, questo secondo episodio, sull'analisi dell'anime Omni-Oji, anche perché direi, tra l'altro ho visto i risultati della prima puntata, e devo dire che non ha riscosso grande successo. Comunque io finirò la serie perché a me sembra interessante. Grazie per la visione e buona serata.